L'Italia è il paese con il maggior numero di siti sulla lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, beni da salvaguardare nelle emergenze e anche giorno dopo giorno. A Roma è stato tenuto a battesimo il Comitato Giovani della Commissione Nazionale per l'UNESCO, proprio con l'intento di mobilitare le energie del paese per tutelare la cultura. Il presidente del comitato, Paolo Petrocelli. È un gruppo costituito da oltre 200 giovani tra i 20 e i 35 anni che in tutte le regioni d'Italia si sono organizzati in gruppi locali. Oggi firmeremo due protocolli di intesa importanti, uno con il Ministero dell'Istruzione e uno con il Commercio Giovani Imprenditori. Quello che vogliamo fare è proprio quello di ragionare e ipotizzare nuovi modelli, come dicevo prima, gestionali, ma anche di investimento, perché no, ma un investimento intelligente a sostegno di progetti che guardano al futuro. Si tratta di lavorare nelle scuole, promuovere il patrimonio e le start-up culturali e turistiche, insomma costruire una rete sul territorio che coinvolga quanti più attori possibile, le istituzioni ma anche imprese, società civile, cittadini pronti a finanziare progetti, conservazione e restauri, coinvolgendo quanto più possibile il settore privato. Giovanni Puglisi è il Presidente della Commissione Nazionale per l'UNESCO. Non è necessario pensare soltanto a situazioni particolari di pericolo o di disastro, cioè la normale amministrazione richiede, soprattutto in una fase di difficoltà e di crisi, con la quella attuale, da parte della pubblica amministrazione, richiede un supporto dei privati. Intanto per il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, questa è una iniziativa importante proprio perché parte dai giovani. Possono decidere le modalità in cui vivere la vita in modo più dinamico, attraente, attraverso l'offerta culturale, possono impegnarsi per la tutela del patrimonio. E i giovani dell'UNESCO mi pare che abbiano esattamente questa intenzione. Grazie a tutti.